Ben trovati su Grandangolo, il mio canale YouTube dove cerco di mettere a fuoco il mondo che ci circonda. Oggi parliamo di Francia, doppio turno alla francese, elezioni, Macron, Le Pen. E' un piccolo scandalo che condisce, come al solito, ogni elezione. Vi ricordo però, come al solito, di iscrivervi per non perdere nessuno dei miei prossimi video e soprattutto di farmi sapere qual è il vostro punto di vista nei commenti qui sotto. La corsa elettorale è stata abbastanza turbolenta per Tony. Intanto abbiamo avuto modo di conoscere Eric Zemmour, il famoso giornalista polemista che ha dato sfoggio delle sue capacità retoriche, oltre che vedere sempre a destra la metamorfosi di Marine Le Pen che ha trasformato l'allora Front National nel Rassemblement National. Percorso che ricorda grossomodo quello fatto da Gianfranco Fini con l'Alleanza Nazionale. Ma Marine Le Pen ha qualche possibilità di vincere? Per capirlo parliamo di doppio turno alla francese. Come funziona? In pratica, gli esclusi dal secondo turno hanno la possibilità di convincere il proprio elettorato a votare tra i due chi preferiscono. Questo è successo nel 2017, come vedremo, e soprattutto ha portato nel corso degli anni una serie di capovolgimenti rispetto ai risultati iniziali. Successi nel 74 e nell'81, quando si alternarono Giscard e Mitterrand, e ancora nel 95, quando invece fu Chirac a capovolgere il risultato di Gospin. Abbiamo parlato di 2017, ultima tornata elettorale, dove accadde che l'Alle Pen al primo turno si classifichò seconda, mentre al secondo turno venne distaccata notevolmente da Macron, che divenne quindi presidente della Repubblica. Perché tutti gli esclusi dal primo turno convogliarono i propri voti del cosiddetto fronte repubblicano e cercarono di farsi stare bene e preferire e mandare giù per quanto possibile Emmanuel Macron, come presidente della Repubblica, benché venisse dal mondo della finanza, e certo era abbastanza impresentabile, soprattutto a sinistra. Il risultato è stato un quinquennio veramente turbolento. Le proteste dei gilets jaunes, il pass sanitaire, e infine quanto è successo in Corsica, l'antipasto dello scandalo McKinsey. Questo deriva da un peccato originale pesante, più del 25% di astensione al doppio turno, insieme a oltre 4 milioni di schede bianche e nulle. Vale a dire una scarsa legittimità popolare che alla fine ha premiato in qualche modo Macron come meno peggio. Chi segue la politica francese sa che il livello di disaffezione è cresciuto parecchio, è nato con sa così, è continuato con Hollande ed è proseguito alla fine anche con Macron, che del resto è stato ministro di Hollande, questo se lo scordano in molti. Il corpo elettorale francese ha un forte livello di esasperazione nei confronti della politica. Ne abbiamo la riprova con numeri risibili a livello di percentuali della Hidalgo e de Valérie Pécresse, che sono i rappresentanti e candidati alla presidenza della sinistra, cioè dei socialisti storici, e della destra, quindi dei repubblicani. Sondaggio alla mano, Macron resta favorito, ma è chiaro che peserà tantissimo questo scandalo McKinsey, vale a dire una serie di consulenze pagate a peso d'oro a una società di consulenza americana molto legata alla politica francese. È emerso infatti dalla commissione d'inchiesta del Senato non solo il fatto che non è stato pagato un euro di tasse alle consulenze milionari che sono state fatte al governo, ma anche una serie di intrecci quasi perversi tra la McKinsey e l'intelligenza francese, per esempio la famiglia del presidente della Corte Costituzionale Fabius, che ha il figlio che lavora proprio per questa McKinsey. Elementi come questi poi favoriscono e spiegano l'assenzionismo di cui abbiamo parlato, ma è chiaro che in una democrazia vince chi vota e non potrebbe essere altrimenti. Anche se le elite e le classi dirigenti europee in questo momento storico stanno soffrendo di un deficit di legittimità, dovrebbero capire che intorno alle cariche più alte di uno Stato va comunque costruito un consenso che sia quanto più ampio possibile. Un deficit di legittimità come questo non aiuta a risolvere il complesso rapporto tra cittadini e istituzioni. Grazie. Grazie.